Ben tornati qui a Radio Design. Oggi siamo, io sono Nicola Palumbo, qui docente di web marketing all'Istituto Italiano di Design. Siamo in compagnia di Maria Antonietta Taticchi dell'alveare più comunemente chiamato anche materia ceramica. Benvenuta. Buongiorno, grazie. Allora ci puoi raccontare un po' la tua storia personale brevemente e poi spieghiamo un po' di cosa si tratta di materia ceramica appunto. Molto brevemente perché sono tanti anni. Certo, sono tanti anni, mi ha fatto un escurso storico molto lungo, però cerchiamo di sintetizzarlo. Allora in sintesi ho sempre dipinto, ho cominciato per hobby, per divertimento, per passione a dipingere a Deruta dentro un laboratorio artigiano a conduzione familiare. Lì mi sono innamorata della ceramica e come si dice quando uno comincia a dipingere sulla ceramica non riesce più a lasciarla, quindi ho frequentato, dopo lo scientifico, ho frequentato l'Accademia di Belle Arti di Perugia e nello stesso tempo ho messo su un laboratorio e nel 1986 sono diventata artigiana. Quindi da allora ad oggi ho sempre il laboratorio nel centro storico di Perugia, che amo molto questa città e riconosco che è una città che ha una storia di artigianato importante e quindi io ho cercato di essere un altro degli artigiani che faceva parte di questa storia di questa città. Ok, poi ovviamente c'era una storia ancora più lunga, ma veniamo direttamente poi alla tua realtà. Sì, allora io dipingo, ho imparato a Deruta dove c'è una tradizione importante, dove ci sono delle grandi competenze, c'è una delle grandi capacità. Lì ho scelto di fare un decoro diverso pur mantenendo quelle che erano le tecniche che avevo imparato, che ho imparato e continuo a imparare a Deruta. Ispirandomi al paesaggio Umbro e da quando sono proprio nel centro storico anche come residente, ispirandomi alle architetture che mi circondano. Quali sono i vari prodotti che realizzi? Tutto quello che si può fare in ceramica. Ok, quindi andiamo dalle, adesso dirò cose profane, dalla semplice piastrellina classica che va a decorare poi gli ambienti, i vari ambienti, fino poi anche altre forme, no? Assolutamente. Ceramiche per esterno, infatti ho fatto una parte della pavimentazione, un'intarzo nella pavimentazione di Via di Priori. Sì, lo ricordiamo Via di Priori, poi lo racconteremo più avanti. Sì, e quindi ho avuto l'onore di poter posizionare delle mattonelle, quindi mattonelle da esterno o pannelli da esterno come oggetti invece per la casa, sia decorativi, sia lampade, sia vasi, tutto quello, piani di tavolo, sia oggetti d'uso quotidiano. Certo, certo. Mi dicevi che poi vuoi dare continuità a questa cosa grazie anche a tua figlia, no? Allora, dopo tanti anni di lavoro e un marito che mi diceva non far diventare i figli artigiani, invece una figlia mi ha detto mamma voglio diventare un'artigiana, ha detto sei sicura? E questa è una fortuna, di solito i figli si antepongono ai genitori come desideri futuri, invece questa volta ha seguito la madre. E ha detto ma però voglio fare cose diverse dalle tue, ho detto benissimo perché la creatività è proprio importante. E non diventa tua competitor diretta tra l'altro. E quindi lei frequenta l'Accademia di Belle Arti, fa i suoi corsi di ceramica, va anche lei aderuta ad apprendere i segreti dei maestri artigiani oltre che a quelli della mamma. Certo. E sta iniziando una sua produzione. Bene, questa cosa è interessante. Mi dicevi anche che voi artigiani vi siete radunati per darvi forza, no? Certo. E tu sei presidente, raccontaci un po' questa tua esperienza. Allora nella mia storia di artigiano ho sempre creduto in questo lavoro come un tenere alta, proprio una produzione di artigianato artistico che è stata parte della storia della nostra regione e anche della nostra nazione, per cui tutti ci conoscono e molti vengono, turisti vengono a Perugia cercando gli artigiani. e quindi ci siamo messi insieme come artigiani che ci sono nel centro storico, che ancora resistono. Noi abbiamo detto uniamoci e facciamo una promozione, cerchiamo di far diventare questo non soltanto delle attività in luoghi nascosti, ma che diventino attività che danno lustro a questa città. E quindi abbiamo costituito l'Associazione Bottega Artigiane del Centro Storico, nella speranza anche che potesse essere un format per altri centri storici e con questa missione proprio di promuoverci e di fare in modo che ci possano essere dei nuovi artigiani che diano vita anche a una nuova cultura dell'artigianato, non delle botteghe di una volta polverose, chiuse, ma innovativi che hanno anche al loro interno della ricerca, dello studio per fare dei prodotti sempre belli come siamo capaci di fare. Bene, diamo un po' di contatti, quindi dove possiamo trovare la tua azienda, sul sito internet, su Facebook, ma anche l'associazione? Allora, io ho il laboratorio in via dei priori, ho un sito che è materiaceramica.com, ho una pagina Facebook che è Materia Ceramica, l'associazione è, il sito è articity.it, Quali altre informazioni? Ci siamo, una volta che riusciamo a reperire il sito internet otteniamo tutte le informazioni. Non solo, ma stiamo organizzando come associazione, perché abbiamo visto un progetto europeo che è arrivato alla conclusione, che abbiamo lavorato per la formazione dell'artigiano e abbiamo lavorato insieme a altri paesi europei, Polonia, Svezia, Portogallo e insieme a un'altra azienda perugina che è la Infolog e abbiamo realizzato questa piattaforma di formazione e la presenteremo il 18 settembre. E in questa occasione verranno i paesi europei, i rappresentanti, ma soprattutto intendiamo fare un evento importante nella città, il primo evento importante sull'artigianato artistico e sulla nuova figura di artigiano e quindi siete tutti invitati. Bene, sicuramente faremo anche un'altra puntata per parlare nello specifico di questo evento, allora così ci rivedremo. Grazie mille ancora. Andate a visitare il sito, l'associazione. Se ci sono artigiani che ascoltano e guardano questo video, iscrivetevi e venite a conoscere questa realtà che vi assicuro che è fighissima e trovate in via dei priori. Va bene, grazie mille ancora. Grazie a voi.